Prosegue il nostro tour nei saloni del gruppo G e ovviamente per incontrare gli sportivi nella provincia d'Imperia ci siamo fermati in questo ultimo gioiello dei marchi Lexus e Toyota siamo a taggia a pochi metri dall'uscita del casello autostradale insomma sta nascendo un altro bel punto di riferimento per chi ama ovviamente i motori sì noi siamo appena aperti da un paio di mesi siamo il nuovo punto di assistenza e vendita Toyota e Lexus della provincia d'Imperia è una ovviamente parliamo di due marchi di grande fascino di grande di grande valore il gruppo gt motor storicamente insomma Genova a Chiavari adesso anche a taggia un punto di riferimento Toyota leader mondiale nell'automotive uno dei più grossi costruttori al mondo il gruppo jacar ci darà la possibilità di lavorare bene sul nostro territorio in un marchio che mancava da tempo nella nostra zona ci racconti come arrivare a trovarvi insomma vediamo anche delle immagini del del salone in una zona che soprattutto per chi arriva con l'autostrada è estremamente comoda abbiamo cercato un punto strategico che fosse comodo per tutta la provincia noi siamo all'uscita del casello di arma di taggia quindi comodo per le persone che arriveranno da ventimiglia o da l'imperia e vicini all'uscita dell'aurelia bis in direzione da sanremo oggi parlando di auto ti chiediamo come dire qualche esperienza qualche consiglio Toyota è leader del mondo mondiale soprattutto nel librido visto che in questi anni in questi mesi si parla molto di ecologia si parla molto di un passaggio ad auto ad auto pulite in questo senso tornate partita veramente tanti tanti anni prima di tutti i competitor certo Toyota è il leader mondiale nell'ibrido ha creduto nel progetto da ormai vent'anni ha investito nelle nuove progettazioni nelle nuove motorizzazioni ibride che saranno sicuramente il futuro oggi noi abbiamo la gamma Toyota pressoché nella totalità con le motorizzazioni ibride i clienti ormai hanno capito l'utilità la praticità il vantaggio di viaggiare sull'ibrido invece il marchio lexus marchio di grandissimo prestigio ci aiuta a capire insomma per chi è che che qual è la gamma di questo marchio prestigioso lexus è il luxury brand di Toyota e quindi è il marchio di lusso di prestigio con più alte finiture più alto livello di allestimenti è una gamma molto bella elegante che piace indistintamente a tutti a un pubblico giovane e anche al pubblico meno giovane le motorizzazioni sono pressoché quelle utilizzate già dalla gamma Toyota sono prodotti che garantiscono nel tempo la miglior soddisfazione del cliente a cui Toyota tiene tanto Bruno in primo luogo ti chiedo come nasce la tua passione per il golf come hai scoperto questa disciplina perché un giorno mio padre stava parlando e mi è venuta la voglia di giocare e appena ho provato mi è subito piaciuto quanti anni avevi? 5 e mezzo cosa ti ha colpito in particolare di questa disciplina? la voglia di darci forte e piano piano quando hai capito di poter diventare bravino? quando ho iniziato a patare meglio ecco mi spieghi un po' bene quali sono i tuoi punti di forte a cosa ti riesce bene e cosa un po' meno bene? il meglio sicuramente il drive un po' meno il ferro 5 a livello di risultati il 2018 è stato un anno molto importante per te mi vuoi spiegare cosa è successo? qual è stata la tua grande vittoria? i match play zona 1 a Villa Carolina e nono ai baby e poi tutti gli altri risultati belli che ho fatto durante le giovanili ora per quale circolo siete serato? Sant'Anna quanto tempo dedichi settimanalmente alla tua disciplina? 3 giorni quanto durano gli allenamenti? 4 ore hai un modello, un golfista a cui fai riferimento? conosco, mi piace Rory e Chico dobbiamo dire proprio molto bene in quanto la prima gara dell'anno a Lignano Saviadoro il nostro Rossi Lorenzo ha fatto un ottimo primo posto nella ranking nazionale con il Grand Prix di Lignano Saviadoro e secondo ha fatto terzo poi nella classifica Juniores in quanto l'atleta ha gareggiato il sabato per i cadetti e la domenica nella categoria superiore come Juniores e ha fatto medaglia anche lì successivamente siamo stati a Follonica il mese dopo e quindi abbiamo fatto un ottimo settimo posto nell'European Cup Cadet e siamo poi arrivati agli italiani che purtroppo come si dice ha perso la finale ha fatto un ottimo secondo posto ma ha perso la finale dopo Pasqua due importanti appuntamenti di calibro nazionale sì, dopo Pasqua abbiamo gli Assoluti d'Italia che sono appunto a Torino quest'anno e noi presentiamo come Judoclub, presentiamo tre atleti e siamo una delle società in regione che presenta un buon numero di atleti alla più grande manifestazione nazionale niente, speriamo bene Parlando della vostra società numericamente e anche a livello di settori a cosa possiamo fare riferimento? Io mi baso soprattutto sull'attività giovanile, sul bivaio in quanto abbiamo un bivaio nutrito con tutte le squadre dai bambini A, bambini B, a fanciulli, ragazzi, esordienti A, esordienti B e poi a salire cadetti junior e senior siamo una delle società diciamo più numerose della regione assieme ai numeri 1 naturalmente niente, la nostra attività è basata soprattutto sulla formazione e sulla diciamo così sullo sviluppo del bambino soprattutto